Musica Cari amici di Serinfesta, buongiorno e buon inizio settimana. Siamo a lunedì 11 luglio e come sempre eccoci qui puntuali per una nuovissima settimana. Vi anticipo già che sarà ricca di appuntamenti consigliati, di ospite e anche avremo una nuova rubrica. Ma iniziamo subito questo lunedì, lo facciamo con un nuovo brano. Il titolo è Maldafrica e l'orchestra è l'orchestra Rodigini. Subito dopo arrivano i Vegas con Dalla Pelle al Cuore. Buon lunedì. Grazie. Grazie. Non lo so come spiegare, non volevo più tornare. Questo pianto mi accarezza, Maldafrica. Hai lasciato dentro me un vuoto pieno di sapori, di quell'Eden ritrovato, Maldafrica. Cantano tamburi nella giungla, si sentono le voci dei Masai, malinconi astruggente che mi fai, io canterò, io canterò. Se dentro me sei tu Maldafrica, respiro la tua libertà, non c'è il mistero, sei Maldafrica, batte forte il cuore quando io ripenso a te. Questo cielo senza fine, io ci voglio ritornare, mi dibatte nella mente, Maldafrica. Sole caldo dentro agli occhi, sei lontana ma mi tocchi, questa nostalgia cosa è? Maldafrica. Cantano tamburi nella giungla, si sentono le voci dei Masai, malinconi astruggente che mi fai, io canterò, io canterò. Se dentro me sei tu Maldafrica, respiro la tua libertà, non c'è il mistero, sei Maldafrica. Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te, so che mi perdonerai, mi devi perdonare, so che tu ce la farai, e dalla pelle al cuore, e devo ritornare, senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo, tu lo scomplirai. Non cerco comprensione, La pelle al cuore, è stata un'emozione, che mi ha rubato l'anima, dolcissimo mio amore, E non mi ha fatto vivere, Si apre il tuo amore... Avremo modo di vederli e rivederli tutta la settimana, ma oggi diamo un'infarinatura iniziale, con i nostri appuntamenti consigliati. Prendete appunti. 27esima festa della Madonna del Carmine, Roverchiaretta a Verona, dall'8 al 12 luglio. Lunedì 11 luglio, esibizione scuola di ballo, a seguire la grande orchestra di Omar Lambertini, in area giovane, Pam on the Rock, serata speciale super costina e risola marrone tastasal. Martedì 12 luglio, esibizione di danza, a seguire si balla con l'orchestra di Rossella Ferrari Casanova. Sarà offerta una mega torta per tutti, con spettacolo scenografico anticipato da un momento di rock and roll acrobatico. In area giovani, one no one. Stand gastronomici, area giovani, Luna Park, pesca di beneficenza, mostra la bottega delle navi, ingresso libero. Sagre Dazzano, Castel Dazzano, Verona. Lunedì 11 luglio, Albero della Cuccagna, a seguire orchestra Vincenzi. Martedì 12 luglio, orchestra Davis Ballerini, a seguire Tombola e spettacolo pirotecnico. Ampia pista da ballo, stand gastronomici, ingresso libero. Primo torneo solidale di volley, in campo per la vita, Corezzo Veronese. Lunedì 11, serata latina con DJ da Monte e Fieschino, animazione con ballerine. Martedì 12, Afro Music Revival 70-80, con DJ Salmon, a seguire Lotteria. Giochi gonfiabili per bambini, stand gastronomici, pizza, raduno auto d'epoca e moto, ingresso libero. Orchestra Nadia Dallivi aspetta sabato 17 e domenica 18 settembre a Marebello di Rimini per un weekend in musica. Tutto incluso a persona, sui 110 euro. Prenotazioni entrano inoltre il 31 luglio. Per info, 338-217-9710. Per gli amici di Verona, partenza da Mantua Nord. Stai cercando un locale accogliente e familiare per le tue serate in compagnia? La pizzeria Paradiso di Roncanova ha la soluzione che fa per te. Preparatevi a gustare ottime bere artigianali. Pizze classiche a mezzo metro, cotte in forno a legna, anche da sporto. E per concludere con dolcezza le vostre serate, lo staff vi saprà tentare con una selezione di sfiziosi dolci. L'ampio giardino estivo con più di 100 coperti è l'ideale per le vostre cene estive. Inoltre, per i più piccoli, troverete un'attrezzata area baby. Pizzeria Paradiso, da 26 anni, al vostro servizio. Via Roma, Roncanova. Per info e prenotazioni, 0442 58052. Antica Sagra di Mozzecane, Verona. Mercoledì 13 luglio alle 20.45, corpo bandistico. Giovedì 14, sfidata di moda, ieri, oggi e domani. Venerdì 15 si balla con l'orchestra Caramel. Sabato 16 alle ore 20, esibizione Judo. A seguire l'orchestra Nadia Nadì. Domenica 17 alle ore 20, ballo con Movida Locca. A seguire l'orchestra Marino e i Bandana. Lunedì 18, sere in festa e in tour. Orchestra base, ipotesi band. Ospiti, Valentinos, Roberto Morselli, Garda Music, Gippo Pezzotti. Riprese TV, conduce Serena Carletti. A seguire alle 23.30, spettacolo pirotecnico. Stand gastronomici, ingresso libero. 43esima festa dello sportivo, a crozare di Bovolone, Verona. Venerdì 15, concerto Ricchi e le Perle. Promozione risotto, 2,50 euro. Sabato 16 si balla con l'orchestra di Katia Belli. Domenica 17, orchestra Gigio Valentino. Lunedì 18, orchestra Sandy e Alin. Serata con ospiti. Risotto a 2,50 euro. Martedì 19, orchestra Maurizio Medeo. A seguire fuochi d'artificio. Stand gastronomici, gonfiabili per bambini, ingresso libero. Nelle serate di sabato e lunedì, esibizione danza a partire dalle ore 20. Festa del PD, Cazzano di Tramigna. Presso il mercato delle ciliegie. Venerdì 15, serata musica folk con Contrada Lory. Sabato 16 si balla con l'orchestra di Micaela e i Magnifici. Domenica 17, Renato Tabaroni orchestra. Lunedì 18, orchestra Ruggero Scandiuzzi. Stand gastronomici, specialità Polenta e Bogoni. Ingresso libero. Vili in venta, festa dell'unità. Mercoledì 20 si parte con l'orchestra di Mister Domenico. Giovedì 21 si balla con l'orchestra Bagutti. Venerdì 22, Sergio e Garda Music. Sabato 23, concerto con i Verona Band. Tributo a Vasco Rossi. Domenica 24, orchestra a Micaela e i Magnifici. Mercoledì 27 si prosegue con l'orchestra di Katia Belli. Giovedì 28, Rossella Ferrari e Casanova. Venerdì 29, orchestra Mirko Vellutti. Ospite Francesca Mazzucato. Sabato 30, disco 70-80 con DJ Verbeni. Domenica 31, orchestra di Comarchiante. Stand gastronomici, ingresso libero, gonfiabili per bambini. Se un buon risotto vuoi mangiare, alla festa dell'unità di Vili in Penta devi andare. Festa del Polastrell, o il filo di Monzambano, Mantova. Venerdì 15, prima camminata tra le colline. A seguire Santa Messa, esibizione di ballo e serata con Radio Studio+. Sabato 16, si balla con l'orchestra di Morris e Paola Fabiani. Domenica 17, Ilaria Veronese e Senso Unico. Lui di 18, orchestra Daniele Amoroso. Stand gastronomici, ampio spazio, gonfiabili per bambini. Mostra il Pini, ingresso libero. Ristorante Pizzeria Stella. La trovate a Correzzo di Gazzoveronese, in via Dante di Ieri 22. Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene, anche da sporto. Aperto dal martedì alla domenica. Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa, risotto colerane, tagliatelle e ottime pizze, con farine speciali ed ingredienti selezionati. Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzoveronese, per info 0442 58007. Schenato e Chiereghin effettuano imperdibile vendita promozionale. Elimina tutte le cucine in esposizione, con sconti reali, fino al 50%. Nell'ampio showroom situato in via Madonna a Bovolone, vi aspettano ottime occasioni, fino ad esaurimento scorte. Cosa state aspettando? Rinnovate anche voi la vostra cucina. Per info 045 710 1267. Schenato e Chiereghin vi aspetta in via Madonna a Bovolone. Il ristorante Pizzeria e Pescatori vi aspetta a Roncollarige, in via Valmarana 4, aperto dal martedì alla domenica, dalle 7 alle 24. Ampio parcheggio, ottima cucina di carne e pesce, musica dal vivo nel fine settimana, in tutto il periodo estivo. Per info e per notazioni 045 6615 229. E tra gli appuntamenti consigliati avete visto che questa sera ci sarà Omar Lambertini a Rover Chiaretta. Nel frattempo non ce l'ascoltiamo con il brano Sorprendimi, ma se davvero volete sorprendervi andate a vederlo dal vivo. Tu stai sempre a inventare qualcosa di magico E la donna che sa capire quando è il momento di volare più in alto. E ora sai che la notte è qui per noi Dai amore sorprendimi con le tue mani candide Dai amore stupiscimi, accendimi, colpiscivi Respira ogni mio bambino, respira ogni mio bambino, accendimi l'anima, senti forte il mio battito, che sale fino al cielo. Dai amore sorprendimi come sai fare tu Ogni attimo insieme mi sembra incredibile Tu trasformi ogni gesto in una poesia E dopo Omar Lambertini ci prendiamo una brevissima pausa Noi ci vediamo dopo la pubblicità con l'angolo della posta e come sempre la ricetta del lunedì Iniziamo la grande questa settimana con ben tre torte di compleanno E allora tanti auguri all'amico Guido Di Brenzone che ci segue sempre E mi ha scritto sulla pagina Facebook per Terriva Vincenzi con Uomo Innamorato E se questa sera sei libero puoi andare a sentirlo dal vivo alla festa di Azzano Subito dopo tanti auguri per la carissima Aida Per te arriva Jessica Ipanafragola con Angeli Custodi Un bellissimo brano Tanti auguri Hai mai visto un uomo innamorato? Nella mente è un chiodo fisso Chiudo gli occhi sono dentro a un sogno Siamo soli in mezzo al mondo io e te Non senti come canta un uomo innamorato Canta come non aveva mai cantato Io non ti coprirei né d'oro né d'argento Ma vorrei sentissi quello che io sento Dove sei stata prima di adesso Dove ero io un altro uomo senza di te Una barca sola in mezzo al mare Tu il mio faro è Dio lo seguirò Vincerò le onde e le sirene Con la mia canzone ti raggiungerò Non senti come canta un uomo innamorato Canta come non aveva mai cantato Io non ti coprirei né d'oro né d'argento Ma vorrei sentissi quello che io sento Dove sei stata prima di adesso Dove ero io un altro uomo senza di te Non senti come canta un uomo innamorato Canta come non aveva mai cantato Io non ti coprirei né d'oro né d'argento Ma vorrei sentissi quello che io sento Dove sei stata prima di adesso Dove ero io un altro uomo senza di te Io sono un uomo innamorato Ed il mio amore a tutto il mondo Io canterò Gli ritrovi qui Proprio accanto a te Quando ormai ti sembra che Non potrai guarire più Li ritrovi qui In un gesto, in un sorriso Nel tuo tiepido respiro Che non vuole rendersi E la vita passa dentro agli occhi tuoi Sei sicuro che non sarai solo poi Sono gli angeli custodi Che ti parlano da vita E ti tengono la mano Senza chiederti chi sei Sono gli angeli del tempo Che vorrebbero fermarlo E ti tengono attaccato A quel filo della vita Che ti sembra ormai spezzato Ma finché saranno lì Tu non cadrai Ti ritrovi qui Proprio accanto a te Quando ormai ti sembra che Non potrai sognare più Ti ritrovi qui In un rivido nel cuore A toccare il tuo dolore A sperare insieme a te E la vita passa dentro agli occhi tuoi Sta sicuro che non sarai solo poi Sono gli angeli custodi Che ti parlano d'amico E ti tengono la mano Senza chiederti chi sei Sono gli angeli del tempo Che vorrebbero fermarlo E ti tengono attaccato A quel filo della vita Che ti sembra ormai spezzato Ma finché saranno lì Tu non cadrai Ma finché saranno lì Tu non cadrai Ma finché saranno lì Tu non cadrai Ristorante Pizzeria Stella La trovate a Correzzo di Cazzo Veronese In via Dante di Ieri 22 Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso E cene anche da sporto Aperto dal martedì alla domenica Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa, risotto colerane, tagliatelle e ottime pizze Con farine speciali ed ingredienti selezionati Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzo Veronese Per info 0442 58007 Schenato e Chierighine effettua l'imperdibile vendita promozionale Elimina tutte le cucine in esposizione Con sconti reali fino al 50% Nell'ampio showroom situato in via Madonna a Bovolone Vi aspettano ottime occasioni Fino ad esaurimento scorte Cosa state aspettando? Rinnovate anche voi la vostra cucina Per info 045 710 1267 Schenato e Chierighine vi aspetta in via Madonna a Bovolone Il ristorante Pizzeria e Pescatore vi aspetta a Roncalladige in via Valmarana 4 Aperto dal martedì alla domenica dalle 7 alle 24 Ampio parcheggio, ottima cucina di carne e pesce Musica dal vivo nel fine settimana in tutto il periodo estivo Per info e prenotazioni 045 6615 229 Stai cercando un locale accogliente e familiare per le tue serate in compagnia? La Pizzeria Paradiso di Roncanova ha la soluzione che fa per te Preparatevi a gustare ottime bere artigianali Pizze classiche a mezzo metro cotte in forno a legna anche da sporto E per concludere con dolcezza le vostre serate Lo staff vi saprà tentare con una selezione di sfiziosi dolci L'ampio giardino estivo con più di 100 coperti è l'ideale per le vostre cene estive Inoltre per i più piccoli troverete un'attrezzata Area Baby Pizzeria Paradiso da 26 anni al vostro servizio Via Roma Roncanova per info e prenotazioni 0442 580 52 E continuiamo a festeggiare i compleanni qui a Serin Pesta Tanti auguri al nonno Lino Per te arriva il brano Tutto Pepe dell'orchestra Roberto Morselli Per te arriva il brano Per te arriva il brano Grazie a tutti. 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 Questi sono gli ingredienti. 500 g di seppia e polipo, due coste di sedano, una carota il finocchio piccolo, olio sale ma pepe, limone e questo è il procedimento. mettete nella vostra bacinella il pesce già cotto in precedenza e tagliate sempre all'interno della bacinella la carota a pezzettini il finocchio il sedano, aggiungete un po' di olio, un po' di sale e pepathe. Aggiungete poi un po' di succo di limone e mescolate E dopo aver amalgamato il tutto la nostra ricetta praticamente è già pronta Basta adagiarla come ha fatto il nostro cuoco matto in un vassoio o in un piatto se sono portate singole E direi che il nostro piatto, il nostro antipasto è pronto Certo, se qualcuno ha le conchiglie di cappa santa può servirle anche dentro la conchiglia che è molto bello Ognuno a vostra fantasia può fare quello che vuol dire E vende anche le barchettine di canna di bambù da metterlo dentro La vostra fantasia Allora con la fantasia si fanno tante cose ma sicuramente le ricette di cuoco matto sono sempre veloci e soprattutto gustosissime Questa ricetta è a chi è dedicata oggi? Allora la dedico a mio fratello Giancarlo che è il compi gli anni E a mia figlia Silvia che sta aspettando Gialla Speriamo che vada tutto bene Un grosso abbraccio e un bacione dal tuo papi e dal tuo fratello Ciao E dell'orchestra di Paola Fabiani e Moris a concludere questo lunedì con il brano Com'è bello far l'amore questa sera Io vi ricordo che siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato Alle 1.15 ma in replica anche alle 17.45 del pomeriggio E in replica notturna Seguiteci numerosi anche le repliche perché no Noi vi aspettiamo come sempre puntuali L'appuntamento è per domani mattina sempre qui su Telerena A presto Chi che fa l'amore vor sa l'otto or se pare Chi se sceglie l'ombra profumata d'un caffè Mentre cosa dite a me ne piace amore già E le strade in libertà Quando poi tramonta il sole So più dolce le parole a tu per tu Come bello fa l'amore quando è sera Core a core una pupa che è sincera E le stelle che ci guardano lassù Non so pelle come l'occhi che c'hai tu Luce bianca dormi veia Un lampione Che ti insegna dove tu Te puoi baciare Specialmente tra le rose a primavera Come bello fa l'amore quando è sera Spersa nell'erbetta fra le rose e la panse Io c'ho una casetta che mi fabbrico da me Ci ha bettetto il cielo C'ho la luna papasciù E il tramonto è tutta blu Non ce pago mai pigione E il ci porto ogni maschietta che me va Come bello fa l'amore quando è sera Core a core una pupa che è sincera E le stelle che ci guardano lassù Non so pelle come l'occhi che c'hai tu